Attenzione attenzione c'è un treno al rialzo che sta partendo lo vediamo subito nella video analisi dedicata agli indici, vai con la sigla! Buongiorno, buongiorno, siamo alla stazione, buongiorno, buongiorno, si usa dire hai perso un treno, hai perso un treno siccome in questi giorni stiamo vedendo delle vendite, ieri alta volatilità sull'indice Nasdaq che ha recuperato adesso farò vedere oltre tre punti percentuali dai minimi e molti stanno dicendo sono occasioni, opportunità buy on deep, comprare su quelli che sono i minimi registrati, adesso farò vedere un po' tutta quella la situazione nel frattempo andiamo a fare un salto come sempre nella trading zone sopra il ticker, eccolo lì il sito renatodecarolis.it dove devi venire per poter partecipare a queste chatroom, vedi quante ce ne sono bellissime in cui si parla di tutto, indici, titoli, azionari sono suddivisi per mercati, strategie, poi ci sono i grafici, ci sono anche i widget, tantissimi widget che trovate qui dove ci sono vedete le dirette sky tg24, rai news, cnbc italia, il canale dedicato proprio alla finanza e poi tante la fx hitmap, crypto chart, tantissimi strumenti, crea crea la tua postazione di trading all'interno della trading zone e allora lo spunto l'ho avuto anche da un articolo che stavo leggendo su Bloomberg in cui si parlava di Tesla che comunque è uno di titoli più rappresentativi in America dove un fondo di investimento ha approfittato della correzione in corso ieri anche sul titolo Tesla, insomma hanno approfittato per comprare delle quote, delle azioni del titolo con il capo lo sapete Elon Musk e c'era proprio la frase finale che mi ha colpito dove le correzioni ovviamente possono essere salutari e i mercati the strongest bull market, i mercati quelli più forti al rialzo toro, mercato toro, sono quelli costruiti su muri di preoccupazioni, paure le paure che stiamo assistendo anche in questo momento, la paura più grande è l'inflazione, ora come ora in questo contesto storico ovviamente la pandemia è ancora presente la paura che i vaccini magari non funzionino e altre paure, però ora come ora si parla tantissimo di inflazione con tutti gli stimoli in corso da parte delle banche centrali i piani dei vari governi, l'America ancora Biden non ha approvato l'ambizioso piano di 1900 miliardi allora queste sono ovviamente situazioni, vediamo cosa dicono i grafici, come sempre vi consiglio e vi invito a seguire quelle che sono le vostre strategie non fatevi prendere dalla emozione, dalla paura, dall'eccitazione del momento, seguite, seguite, siate fedeli a quello che è il vostro piano di trading e per quello che posso dirvi io posso aiutarvi con i grafici giornaliere e chi nasce che sono fantastici nel disegnare i trend e quando cambia il colore dare anche il via, dare lo spunto operativo per un cambio di rotta cominciamo dall'Italia, dall'Italia che poco fa sotto il grafico a un minuto, sopra quello di tendenza giornaliera ai chi nasce appunto che dice siamo ancora in un trend ribassista che però per il momento si è adagiato su questa che è una ex resistenza dei 22.861 punti, si vede proprio bene, però è ancora rosso, aspetta il treno, il treno non è qui almeno secondo il grafico ai chi nasce il treno non è ancora partito al rialzo vediamo il DAX, DAX in questo momento più 0.71, qui però attenderei, non so se sei d'accordo con me la violazione su base giornaliera della resistenza sui massimi storici, quindi cavalcare un po', salire sul treno in corsa dopo che ha preso un po' più di giri diciamo, non adesso, ancora ciuff 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 sta partendo anche stesso discorso per le Eurostox, qui aspetterei la violazione della resistenza di 3.730 la Francia pure, il livello da superare 5.787, mentre c'è una Spagna ieri, il grande spolvero ieri ha fatto decisamente in controtendenza più 1.72, prosegue questo trend positivo con possibile in vista una violazione della resistenza 8.229, l'indice inglese è passato da poco in positivo, il grafico giornaliero e chi nasce però è ancora rosso ribassista. Andiamo in America, Dow Jones ieri ha chiuso giusto a più 15 punti ma vedete che recupero dai minimi di periodo e poi lo Standard & Poor's pure minimi di giornata più che di periodo 0.13 ha recuperato con questa tendenza che resta ribassista dalla resistenza sui massimi storici e guardate lì, il Nasdaq dal minimo toccato in apertura verso le 15.51 al dato di chiusura ha recuperato oltre 3 punti percentuali, questo nell'intraday, ovviamente le parole di Powell che abbiamo seguito anche nel meeting che facciamo ogni pomeriggio su Zoom riservato agli iscritti della Trading Zone però è gratis la partecipazione, il link lo trovate nella chatroom, tutte le chatroom e stavo notando che col minimo toccato ieri siamo a 8% di correzione dal massimo storico del 16 febbraio che supera quindi la correzione precedente che vedete qui dal 25 gennaio al 29 di 5 punti percentuali poi sono andato un po' più indietro nel tempo e possiamo mettere anche a tutto schermo c'era stata un'altra correzione di 10 punti percentuali tra il 12 ottobre e il minimo del 2 novembre e poi quella più consistente almeno come correzione dai minimi toccati a marzo resta quella iniziata dopo il massimo storico del 2 settembre fino al minimo del 21-14 punti percentuali per l'indice tecnologico è facile dire buy on dip visto che dopo praticamente ha sempre aggiornato poi i massimi storici e allora attenzione ai treni attenzione ai treni che passano ne parliamo magari anche se volete all'interno della trading zone buona giornata a tutti arrivederci